Ciao a tutti, ti sei innamorata di un uomo a progetto zero, che fare? Intanto, quali sono gli uomini a progetto zero? Bene, quelli che con te, perché tieni presente che il progetto zero è con te, non hanno voglia di prendersi un minimo impegno, cioè di viversi in modo anaffettivo o al limite anche affettivo la relazione, ma senza prendersi nessun impegno, cioè senza fare nessun progetto, non dico di matrimonio, ma neanche di fidanzamento, di presentarti i genitori, gli amici, insomma, di vederti come una fidanzata, ma vedendoti semplicemente come amici, anzi talvolta ti dicono guarda che io non sono innamorato di te, non voglio avere una relazione con te, poi magari si comportano in modo diverso, ti cercano ogni tanto, però di fatto il progetto è zero. Allora, nulla di male in tutto questo, non c'è nulla di male nel fatto che ci sia un progetto zero, ma dipende dal tuo obiettivo, e se il tuo obiettivo è la famiglia del mulino bianco ti sei presa una bella fregatura a innamorarti di uno così, ma non è tanto il fatto che questo sia progetto zero, perché quella è una sua esigenza, e lui sta portando avanti una sua esigenza, e quello che non si capisce è perché tu resti vincolata in una relazione di questo tipo, e perché tu accetti di rimanere in una situazione, diciamo così, a progetto zero. Questo è il vero inghippo del tutto della situazione. Perché tu accetti questo? Che cosa è che ti fa accettare questa situazione? Perché? Perché se tu capisci questo, allora va bene, riuscirai a non innamorarti più di una situazione del genere. Perché capita questo? Per un solo motivo, perché sei bisognosa, perché lui ti sta dando niente e tu ti innamori di chi ti dà niente. Perché è l'imprinting genitoriale che deve andare a ristrutturare, che deve andare in qualche modo a modificare, che deve andare a vedere come si può modificare questo imprinting genitoriale, dargli una valenza diversa, dargli una valenza più significativa per te. Quindi la cosa importante che devi imparare a fare in queste situazioni è decoinvolgerti emotivamente. Ed esiste un unico sistema per decoinvolgersi emotivamente. Questo sistema è quello di fare degli atti di coraggio che vanno nella direzione opposta. Cioè, in questo caso, devi fare soltanto una cosa, rifiutarlo. E rifiutarlo, quando ti cerca di dirgli io per te, non ci sono. Questa è l'unica cosa che devi fare. Perché, tra l'altro, molte persone che danno il rifiuto si agganciano poi sul rifiuto. Perché quello che in una prima parte della nostra vita è vissuto in modo passivo come un rifiuto, nella seconda parte può essere vissuto in modo attivo. E quindi il rifiuto è sempre la sensibilità. Cioè, prima ero rifiutato, adesso rifiuto. Ma se tu somministrerai il rifiuto a delle persone che in qualche modo si agganciano sul rifiuto, allora verrai vista significativa. Cioè, a te non ti rifiuterà più. Rifiuterà tutti gli altri, ma non rifiuterà te. Quindi, questa è l'unica strada che puoi tentare. Ma se tu continui ad accettare queste situazioni, questo progetto zero, e tu vuoi, ripeto, la famiglia del mulino bianco. Perché, ripeto, dipende da quello che tu vuoi. Se tu vuoi costruirti un focolare domestico, se tu vuoi costruirti una relazione stabile, allora devi veramente fare questo atto di coraggio. Perché altrimenti vivrai una situazione che non ti piace, di sofferenza, e perderai un sacco di tempo. Siccome il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, che non possiamo più recuperare, perché il tempo perso non torna più. Uno può recuperare un fallimento economico, ma non può recuperare un fallimento temporale. Il tempo non ritorna più. È destinato a esaurirsi, è destinato a perdersi. E quindi devi stare molto attento da questo punto di vista. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Iscriviti al canale ed iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!